Eccoci, buonasera, il telegiornale partirà dalla nuova impasse nel governo, l'avevamo detto nei giorni scorsi, sull'ormai eterna vicenda, disputa riguardante la TAV. Conte ha annunciato che da domani sera ci sarà una vera e propria non stop, ne sappiamo qualcosa, una non stop che dovrà durare al massimo entro venerdì, quando le decisioni dovranno essere esecutive. È inutile fare pronostici, anche se Salvini dice possiamo farcela chiudere già domani sera. Perché domani sera? Perché è un viaggio ufficiale e Conte al rientro appunto si immerge in una riunione che non sarà soltanto come il vertice di stamattina con i due vicepremier e Toninelli, ma anche con la riconvocazione a quanto pare degli esperti che hanno stilato il documento sui costi e benefici dell'opera. Aspettiamo, a questo punto è l'unica cosa che si può fare. Mentre abbiamo già altre due date, a cavallo tra l'altro del passaggio tra l'inverno e la primavera, su cui il Senato dovrà farsi sentire con scelte importanti. Il 20, ultimo giorno dell'inverno sul caso Salvini, 18, votando in maniera esecutiva sulla richiesta dei magistrati di Catania di mandare a processo o no il ministro dell'interno. Il giorno dopo sulle emozioni contro il ministro Toninelli, emozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni. Ma poi c'è la questione del PD, conquistato il partito, ora in qualche modo deve farlo suo Zingaretti, sostituendo gli uomini, quasi tutti di fede renziana, come sappiamo che erano nei posti chiave nel partito, tesoreria non solo, ma anche nei gruppi parlamentari. Che cosa succederà? E poi domani si inizia con le domande sul reddito di cittadinanza. Ci saranno in tutta Italia sicuramente i CAF con lunghe file, ci saranno tantissime richieste e tantissimi giornalisti che documenteranno il primo giorno nelle varie zone, già tutti premuniti. Li possiamo immaginare, va documentato quel primo giorno, anche se noi sappiamo che il giorno decisivo sarà il 30 aprile, giorno ultimo delle risposte a tutti coloro che avranno fatto domanda. Piuttosto tra reddito di cittadinanza e quota sud, secondo le stime che si stanno facendo, i veri beneficiati saranno gli abitanti del centro sud, per ciascuna delle due misure, la pensione con appunto la somma tra anni e anni lavorati e l'altro appunto la richiesta del reddito di cittadinanza. Vedremo però anche che in Sicilia c'è stata una retata di figure che fiancheggiavano di fatto e facevano da prestanome per quelli che erano gli affari illeciti riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Tra gli arrestati c'è anche un ex consigliere regionale del Partito Democratico che era candidato peraltro anche in Parlamento un anno fa. E vedremo anche dal punto di vista internazionale una sfida che si profila ormai tra un anno e mezzo praticamente alla Casa Bianca. Chiamatasi fuori oggi Hillary Clinton e la probabilità maggiore è che la sfida per la Casa Bianca sia tra ultra settantenni, tra Trump e dall'altra parte Biden o Sanders. 30 secondi, i titoli. Restano distanti le posizioni di Lega 5 Stelle sul tab. Un'ora di vertice a Palazzo Chigi tra Conte e Di Mario Salvini e Toninelli è servita solo a guadagnare tempo. Il Premier che ha preso in mano il dossier annuncia un vertice ad oltranza da domani sera fino a quando sarà necessario. Al massimo entro venerdì 8 marzo, tre giorni prima della scadenza dei bandi di gara per i cantieri dell'alta velocità. Andremo avanti, dice Conte, nell'interesse dell'Italia ma il governo non cadrà. Chi cederà tra il carroccio e i 5 Stelle? Calendario di fuoco al Senato per gli alleati di governo. Il 20 marzo l'Aula voterà l'autorizzazione a procedere per Salvini, chiesta per il caso della nave 18, già negata alla Commissione per l'Immunità. Mentre 24 ore dopo sarà il turno delle emozioni contro Toninelli, una del PD e l'altra di Forza Italia. In teoria entrambi dovrebbero superare l'ostacolo grazie al paracaduto della maggioranza ma il voto che arriva dopo la decisione sulla TAM potrebbe riservare sorprese per Toninelli. Ora gli tocca disegnare il nuovo Partito Democratico. Nicola Zingaretti deve sostituire una parte evidentemente nel vertice del partito modellato ancora su Matteo Renzi. Ci sarà un nuovo tesoriere del partito, ben conosciuto l'ex capogruppo al Senato Zanda che commenta ironicamente, è l'ultima cosa che avrei voluto visto che qui il tesoro non c'è. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare l'ufficializzazione di Paolo Gentiloni, il Presidente, e la De Micheli, tra i vice segretari già sottosegretari dell'Economia Corretta. C'è anche Paolo Ruggirello, ex deputato regionale PD, candidato non eletto alle ultime elezioni per il Senato tra le 25 persone arrestate questa mattina nel Trapanese con l'accusa di associazione mafiosa riconducibile al superlatitante Matteo Messina Denaro. Secondo la procura distrettuale antimafia di Palermo, Ruggirello rappresentava il vero e proprio ponte tra la mafia e le istituzioni. Sarebbe stata a disposizione della famiglia mafiosa in cambio del sostegno elettorale. E infine da domattina ci sarà la prima possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza ai CAF e alle poste o direttamente online. Secondo l'Istat, oggi in audizione alla Camera, l'obbligo di lavoro esisterà solo per un terzo dei beneficiari. 2,7 milioni saranno i beneficiari stessi, tra cui il 12% stranieri, mentre famiglie andranno circa 5 mila euro. A fare la parte del leone saranno le regioni del centro-sud. Da poste italiane un appello per limitare lunghe code. Venite in ordine alfabetico. La sfida delle pantere grigie. Se Hillary Clinton non parteciperà, lo ha annunciato oggi alla corsa alla Casa Bianca nel 2020. Tra i democratici ci saranno Bernie Sanders, che sembra essere tra i favoriti, insieme forse anche all'ex vice di Obama, Joe Biden. E ovviamente si ripresenterà il presidente uscente Donald Trump. Tutti e tre, ben oltre i 70 anni. Un'insolita corsa nella storia dell'elezione americana. Buonasera. Ieri, illusoriamente, ma anche con un punto di scetticismo, dicevamo che forse oggi sarebbe stata la giornata della decisione sulla alta velocità tra Torino e Lione. Insomma, si arrivava all'ultimo petalo della Margherita. Non era così. Il vertice di stamattina, Palazzo Chigi, ha partorito la convocazione di un nuovo vertice a partire da domani sera. In questo momento, e tanto può essere la decisione a favoritare, tanto notare. Quello che posso garantire è che prenderemo la decisione migliore per tutelare l'interesse nazionale. Un'ora di riunione con Salvini e Di Maio e Toninelli a Palazzo Chigi serve solo a fissarne un'altra, a guadagnare altre 24 ore e ad annunciare alla stampa la decisione di decidere. Entro venerdì 8 in modo da rispettare l'eventuale scadenza dei bandi di gara per i cantieri TAV prevista per l'11 marzo. Sarà un vertice fiume che andrà avanti fino al raggiungimento di un accordo. Sentiti i tecnici, dice Conte, contratto di governo alla mano. Ma, giura il Premier, una scelta sarà fatta. Perché dovrebbe rischiare di cadere il governo? Io posso garantire che prenderemo una decisione per tutelare l'interesse nazionale, per tutelare l'interesse di tutti i cittadini, l'interesse nazionale. Quindi, siccome prenderemo una decisione dell'interesse nazionale, il governo non può cadere. Il governo è al capolinea, scommette il forzista Tajani. Se decidono di non fare la TAV, la Lega fa cadere il governo. Se decidono per il Sistra, per anni 5 stelle. Per questo, lontano dalle telecamere, la domanda, ancora senza una risposta certa, è se davvero il governo giallo-verde arriverà a una scelta. Escludiamo che la TAV possa essere bloccata, ribadiscono fonti di governo vicinissime a Salvini, consapevoli anche del pressing pro-TAV del neosegretario PD in Piemonte, dove si vota il 26 maggio. I bandi devono partire, un compromesso magari su una versione depotenziata si può trovare, la linea della Lega, che ritiene insidiosi ulteriori rinvii. Sul fronte dei 5 stelle, tutto invece è complicato dalle divisioni interne. Si capisce dalle parole di Conte, che attribuisce a Toninelli la decisione controversa di un supplemento di analisi costi-benefici, dopo la lunghissima fase di attesa di quella della Commissione Ponti. Si capisce dalla reticenza di Di Maio, consapevole racconta, che in Parlamento non ci sarebbero i numeri per bloccare l'opera e tuttavia dei rischi di un sì alla TAV, sia pure versione light. Luca Carabetta, attivista no TAV, oggi vicepresidente della Commissione Attività Produttive 5 Stelle, spiega che tutto è ancora possibile, che si decida di bloccare i bandi di gara o che si facciano senza che questo vincoli più che tanto. Ci vorrebbero comunque sei mesi per passare ai fatti e sarebbe comunque possibile, dice, una revisione del progetto. Salvini e Di Maio troveranno un escamotage su ossurrano fonti del Ministero dell'Economia, dove si osserva con preoccupazione il crescendo di tensione sulla TAV e dove la linea è però stata espressa con forze e polemiche dal Ministro Tria nei giorni scorsi. Un Paese che non rispetta gli accordi fa scappare gli investitori, aveva detto, ricordando come la TAV vada inserita in un contesto economico non facile per l'Italia, con il rischio recessione ben noto. Decideremo domani, non sono preoccupato, commenta Salvini. Il dossier è nelle mani di Conte. Non è preoccupato Salvini e forse non è neanche preoccupato per la scadenza del 20 di marzo, l'ultimo giorno dell'inverno, è quello in cui il Senato sarà chiamato a votare dopo il parere, come sappiamo, negativo della Giunta sulla richiesta dei magistrati del Tribunale dei Ministri di Catania riguardo alla vicenda della nave Diciotti e della processabilità dello stesso Ministro dell'Interno. Ma il giorno dopo toccherà Toninelli e quello sarà un 1-2 in cui si misurerà sia la forza nei numeri e sia la compattezza della coalizione di governo. Per gli alleati di governo, calendario da incubo al Senato. Tra due settimane nell'arco di 24 ore finiranno sul banco degli imputati il Vice Premier Lighista Matteo Salvini prima e il Ministro dei Trasporti 5 Stelle e Toninelli poi. Scontato che per entrambi si aprirà il paracadute della maggioranza che dovrebbe metterli a riparo. Ma andiamo con ordine. La riunione dei capigruppo di Palazzo Madama oggi ha fissato il calendario. Il 20 marzo l'Aula dovrà decidere sul processo a Salvini chiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania per il caso Diciotti. Tappa obbligata per confermare o meno il voto della Giunta per le immunità che ha negato l'autorizzazione spiegando che il Ministro dell'Interno agì nell'interesse dello Stato. Con i voti della maggioranza, Lega e 5 Stelle ma anche di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Passaggio che aveva già messo in crisi gli ortodossi grillini, contrarie all'immunità, di senso non riassorbito dal verdetto della piattaforma Rousseau. Non è scontato che in Aula qualche dissidente scelga di far sentire la propria voce. Ma eventuali defizioni, al di là delle ricadute politiche numeriche per la maggioranza già risicata al Senato, non faranno troppo male a Salvini. Così come già venuto in Giunta può contare i voti degli alleati del centrodestra. Diverso il caso del Ministro Toninelli che finirà sul banco degli imputati il giorno successivo, il 21. Due le emozioni di sfiducia contro di lui. La prima affirma PD che ne chiede le dimissioni contestando il suo ruolo nella partita TAV. La seconda, per lo stesso dossier, è firmata da Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni annuncia invece che voterà la sfiducia ma non presenterà nessun documento. Anche in questo caso i numeri mettono a riparo il Ministro dei Trasporti. Ma non si può ignorare che la TAV resta un nervo scoperto del movimento e che il voto arriverà dopo la decisione del governo sull'opera attesa a venerdì. Insomma, l'unico rischio per lui potrebbe essere il fuoco amico. Ma l'opposizione la vede diversamente. Già parla di scambi di favori tra alleati, protestando per la decisione dell'HP Gruppo, di mettere così vicine le due votazioni. Spiega Marcucci, PD. Questo giochino tra Lega e 5 Stelle e dei ricatti reciproci comincia a diventare molto pesante per la nostra democrazia. Siamo molto preoccupati. E forse però Marcucci, che è il capogruppo al Senato del PD, può essere preoccupato anche per un motivo più interno. Il Partito Democratico ha un nuovo capo, come sapete, un nuovo leader che è Nicola Zingaretti, che ha già cominciato a smantellare quelle che prima erano legittimamente e ora altrettanto legittimamente non saranno più posizioni detenute dagli esponenti renziani. La fabbrica prima di tutto, perché c'è il lavoro al centro del nuovo PD, che già guarda all'azzeramento del Jobs Act. E allora la giornata del neosegretario parte da qui, a Nagni, Frosinone, la fabbrica riconvertita all'economia circolare, con i rifiuti che diventano materia prima e salvano 300 posti di lavoro. E' questa l'Italia che ci piace, dice Zingaretti, che annuncia di proseguire, nei prossimi giorni, il viaggio al sud, oggi il colloquio telefonico col governatore della Campania, De Luca, in quelle regioni che sono state meno generose con lui alle primarie di domenica. La parola d'ordine è accelerare e battere il ferro caldo, non diremo solo no, assicura, e sul rapporto con Renzi da politico consumato, dice di vedere una bella volontà di collaborare. Poi il ritorno a Roma per la nomina del nuovo tesoriere del partito, al posto del renzianissimo Francesco Bonifazi, sarà Luigi Zanda, area dem, tra i fondatori del PD, ex capogruppo al Senato. Per ora sarà una carica immaginaria, ironizza Zanda, perché per fare il tesoriere serve il tesoro, ma qui il tesoro non c'è. Ci sono i 3-4 milioni di euro delle primarie, certo, ma per il resto le casse del PD sarebbero in profondo rosso. Si tratta della prima nomina del neosegretario che nei prossimi giorni dovrà affrontare un'altra questione spinosa, quella relativa agli equilibri dei gruppi parlamentari, oltre alle nomine del Presidente, probabilmente Paolo Gentiloni, e dei vice segretari, una sarà quasi certamente Paola De Micheli, bersagnana e lettiana, ma anche un po' corenziana, avendo fatto parte del suo governo come sottosegretaria all'economia. Non è finito qui il martedì grasso di Nicola Zingaretti, un attacco al governo gialloverde, colpevole di incertezza e arroganza parlamentare, e poi l'incontro politico della giornata, quello con Emba Bonino, più Europa, un bel confronto, una lunga chiacchierata sull'Europa, sulla democrazia e sulle future sfide elettorali, dice Zingaretti. La prima è quella di maggio, insieme alle europee, per ora più Europa, intende presentarsi con il suo simbolo, ma il confronto continua, allargato, la prossima settimana. Ma c'è anche un motivo di imbarazzo per il PD, per le notizie che arrivano sul fronte della lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia, perché tra gli arrestati di questa mattina, in una retata contro l'area vicina a Matteo Messina Denaro, il boss inafferrabile di Cosa Nostra, nella retata c'era anche un esponente del partito che è stato un eletto in assemblea regionale e quasi un eletto al Parlamento. Un principe dei pacchetti di voti in Sicilia, dalle sue parti lo chiamavano la calamita per l'abilità nel catturare consensi. Paolo Ruggirello, 53 anni di Trapani, è finito in carcere per associazione mafiosa, favori in cambio di voti. Lo accusano di essere al servizio dei boss almeno dal 2008, un trasformista, una specie di zelig della politica, nella terra del boss super latitante Matteo Messina Denaro. In 15 anni molti cambi di casacca, una militanza nel Movimento per le Autonomie, poi un passaggio al centrodestra fino al PD, per cui è stato deputato regionale e candidato non eletto al Senato. Oggi il PD precisa non è iscritto da due anni e pertanto non può essere sospeso. A novembre 2017 scende in campo per le regionali, prende 6.600 voti, pochi per essere rieletto. Durante lo spoglio telefona Carmelo Salerno, personaggio ritenuto organico a Cosa Nostra, e si lamenta per il mancato appoggio ricevuto. E poi, li ringrazio gli amici nostri, secondo i magistrati gli amici sono i mafiosi trapanesi. È l'intreccio mafia e politica a costituire l'ossatura di questa nuova inchiesta denominata Scrigno, che ha portato in carcere 25 persone, tra cui altri due politici locali e i figli del vecchio capo mafia Vincenzo Virga, Francesco e Pietro, che dopo essere stati scarcerati, avevano riorganizzato la Cosca. I boss controllavano le elezioni, scrive il GIP. Avevano i politici a disposizione. Ora è il politico a cercare il mafioso e contratta il tipo di appoggio, sottolinea il PM Paolo Guido. I mafiosi garantivano la raccolta di voti a prescindere dalle ideologie, dice il capo della procura di Palermo Lovoi. Il ruggirello avrebbe rappresentato il ponte tra la mafia e le istituzioni, al punto tale da, secondo quanto risulta dalle indagini fin qui svolte, avere offerto somme di denaro, avere pagato somme di denaro per ottenere appoggio e aiuto per le elezioni del 2017. Dai boss trapanese era partito l'assalto alle vicine isole Egadi. Il CRAN aveva nominato un referente a Favignana che gestiva il Grand Hotel Florio, ora sotto sequestro insieme ad altri beni, per un valore di 10 milioni di euro. Domani è il giorno in cui comincia la corsa al reddito di cittadinanza, vedremo se sarà una corsa ovviamente, e però guardando i dati, le stime potenziali, guardando anche altri dati, quelli di coloro che già aderiscono o vogliono aderire all'iniziativa, chiamiamola così, al provvedimento di quota 100, si vede che la somma delle due misure del decretone, che ancora deve avere il voto finale della Camera, beh, tutto si inclina verso il centro-sud. Fra poco, pochissimo, da domani diventerà reale, saremo oltre la presentazione di una tesserina gialla, oltre la decisione di farlo, da domani si fa, si parte davvero, uffici postali, CAF, qui si comincerà a chiedere il Bancomat di Stato, almeno per i CAF un affare da 2 milioni e mezzo di euro, per le poste anche un gran marketing color giallo, quel che sarà, sarà, di certo i numeri chiariranno e in parte già chiariscono, 1, le medie, le famose medie, si ragiona di benefici medi, per 5.053 euro all'anno a famiglia, 8 su 10 italiane. Si legherà davvero al lavoro il reddito di cittadinanza? Su 2.706.000 redditanti, chiamiamoli così, e sono in effetti tanti, 897.000 sono soggetti all'obbligo di sottoscrivere un patto per il lavoro, quindi 1 su 3, il che significa che 2 su 3 potrebbero invece non considerare il reddito di cittadinanza come un innesto al mercato del lavoro, ma solo un suo sostituto, giusto? Nel caso si tratti di ultimi, per gli altri casi a dirlo saranno i fatti. Regole? Per ora no, tranne una che poi è una sorta di acronimo equazione per capire a chi va soprattutto, SCS, Single, Casalinghe Sud, queste sono le categorie geografiche e sociali per le quali il reddito di cittadinanza da domani diventa sbocco semplice, naturale, 48% circa ai single, il resto agli altri, totale 6 miliardi e 600 milioni di spesa pubblica. Secondo il modello di micro simulazione dell'Istat, tra il milione e 300 mila famiglie beneficiarie, 752 mila vivono nel mezzogiorno, 333 mila al nord e 222 mila al centro, quindi sì, la misura è sartoriale per il sud e nel caso dei precari, grande dubbio delle ultime ore. Il decretone fissa a 9.360 euro la soglia massima di indicatore della situazione economica equivalente per accedere al sussidio, ma il valore si fonda su quanto si è guadagnato nel 2017, per molti la situazione da allora è cambiata e in certi casi il diritto a prendere il reddito non sarebbe così scontato. L'altra icona, quota 100, più Lega Oriented, ma anche qui nel pubblico il sud batte il nord nella corsa ad andarsene in pensione. Oggi le domande ricevute sono poco meno di 82 mila, record Roma a 5.902 seguono Napoli e Milano, ma se uno va in Sicilia, regione al top della classifica, scopre che Palermo, Messina e Catania insieme superano le 5 mila richieste e quindi un po' sorpresa anche questa misura vessillo-leghista sembra fatta su misura per il sud. Chi l'avrebbe mai detto? E poi c'è un settore che con le sue difficoltà ha portato in basso la produzione industriale in tanti paesi, l'Italia tra questi, ma anche ad esempio la Spagna. È un settore però che è importante per il nostro paese anche storicamente e su cui c'erano stati dei nuvoloni molto molto cupi. E a questo punto invece arrivano notizie più positive. Cosa sto dicendo in sostanza? Che la Fiat Chrysler ha cambiato idea e investirà copiosamente in Italia, come aveva già preannunciato nel suo piano e poi rimesso in discussione dopo le misure sull'eco-tassa e l'eco-bonus. Coi chiari di luna che corrono, la notizia che FCA mantenga fede al suo piano industriale con gli investimenti programmati, è una boccata d'ossigeno per l'economia italiana e al tempo stesso anche per il governo. A gennaio infatti, all'indomani dell'annuncio degli eco-bonus e dell'eco-tassa premianti per i produttori di auto elettriche, settore dove FCA è assente, il successore di Marchionne, Mike Manley, disse che quel provvedimento l'avrebbe costretto a rivedere il piano industriale per il nostro paese. Oggi dal Salone di Ginevra Manley annuncia invece la conferma dei 5 miliardi di investimenti programmati in Italia assieme, certo non è casuale, al lancio di due Jeep a propulsione ibrida, quindi metà elettriche, la Renegade e la Compass, entrambe prodotte a Melfi, e del SUV ibrido Alfa Romeo Tonale, che uscirà invece da Pomigliano, mentre il prossimo anno da Mirafiori usciranno le 500 elettriche. Positivi commenti dei sindacati, del ministro del lavoro e dello sviluppo di Maio. FCA, dunque sia pure in ritardo rispetto a giapponesi, tedeschi e francesi, dimostra di puntare anche sull'auto elettrica, una corsa che però vuol fare da sola, ossia senza comprare tecnologia, la cosiddetta piattaforma, da altri produttori che si sono mossi prima, ossia Volkswagen, almeno così ha detto Manley. Altro discorso è lo sviluppo dell'auto a guida autonoma, settore di grandi prospettive e annunci roboanti, ma ancora molto molto nebuloso, dove si sfidano grandi marchi e piccole start-up aggressive. Qui FCA sta lavorando gomito a gomito con BMW. Tornando all'elettrico, sempre a Ginevra l'amministratore delegato di Ferrari, Camilleri, siamo sempre in orbita FCA, ha annunciato che a fine maggio verrà presentata la prima Ferrari ibrida. Non c'è dubbio che la propulsione elettrica sia il futuro delle quattro ruote, fermo restando che ancora nessuna ha risposta alla domanda che ci pone questa tecnologia. E che Marchionne spesso ripeteva, forzare l'introduzione dell'elettrico a livello globale senza prima risolvere il problema di come produrre l'energia da fonti pulite e rinnovabili, diceva il manager italo-canadese, è una minaccia all'esistenza stessa del nostro pianeta. Vedremo, sicuramente tutte queste domande passano anche da uno dei paesi cardine, l'America, e del resto molti presidenti americani hanno legato la loro vittoria proprio ai voti ottenuti nei grandi distretti dell'automobile. È valso per Obama e è valso anche per Donald Trump. Ma Trump è ormai arrivato ben oltre metà mandato e praticamente tra un anno inizieranno le primarie per designare il suo sfidante, mentre è scontato che sarà lui il candidato dei repubblicani. Il fatto è che però per la prima volta si profila una possibilità, non è una certezza, ma è sicuro che dall'altra parte a sfidarlo ci sono tra gli altri potenzialmente due personaggi che come Trump hanno e avranno superato la settantina. Almeno uno dei vecchi protagonisti non ci sarà nella corsa di candidarsi alle presidenziali americane a quattro anni di distanza. Hillary Clinton ha deciso che per lei due tentativi andati male, peraltro ad otto anni l'uno dall'altro bastano ed avanzano. Per il resto sembra che la Casa Bianca non sia un gioco adatto ai ragazzi e dalle ragazze come ai tempi del primo Bill Clinton o di Barack Obama. A cercare di varcare i cancelli del 1600 di Pennsylvania Avenue c'è un drappella guerrito di ultra settantenni a partire dal presidente in carica Donald Trump con i suoi 72 anni, certo della nomination repubblicana, a meno che i guai giudiziari, quella parola che non insegue da tempo, impeachment, non riescano a raggiungerlo. Il principale rivale della Clinton nelle primarie democratiche, Bernie Sanders, con i suoi 77, non ci ha pensato due volte e si è messo di nuovo in gioco. I numeri scritti sulla carta d'identità non lo spaventano ed a quanto pare non mettono paura neanche a coloro che dovrebbero votare i candidati. Se è vero che il favorito a scontrarsi con Trump in campo democratico, qualora decidesse di presentarsi, sarebbe il vice di Obama Joe Biden, 76 alla nagrafe, il quale però non solo non vuole sciogliere le riserve, ma non sembra proprio convinto. Non mi diverte più giocare con i ragazzi, bontà sua ha ripetuto ultimamente. E dalle sue spalle si scalda, magari come indipendente, l'ex sindaco di New York e magnate dell'informazione, Michael Bloomberg, anche lui, 77, compleanni suonati. Le nuove leve comunque ci sono e siccome si tratta soprattutto di signore, sarebbe buona norma non rivelare l'età. Tuttavia tra le più accreditate c'è la quasi settantenne senatrice del Massachusetts, paladina dell'ambiente Elizabeth Warren, affiancata dal vero volto nuovo che potrebbe essere quasi la figlia degli altri protagonisti, la senatrice californiana Kamala Harris. Il tutto in attesa di un ragazzo che ha fatto parlare di sé quel Beto O'Rourke che pure avendo perso in Texas da un'altra vecchia volpe come Ted Cruz nelle elezioni di medio termine, ha fatto una campagna oltre le aspettative e sarebbe l'unico sotto i 50. Infine la vicenda Sarti è stata sostituita da una sua collega, l'onorevole Businarolo, alla guida della Commissione Giustizia della Camera. Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle si è dimessa dopo che sono emerse le controprove, dopo un anno delle sue irregolarità rispetto alle famose restituzioni a favore del microcredito di una parte di stipendi come avevano deciso autonomamente gli eletti del Movimento 5 Stelle. Ma quello che c'è di nuovo è che la Sarti ha detto non mi dimetto, non c'è motivo, non ho fatto niente. Da cosa? Dal Movimento 5 Stelle stesso. Non si vuole dimettere e ha spiegato con parole molto chiare. Confido di rimanere nel Movimento perché non ho fatto assolutamente niente. Io non lascio i 5 Stelle, io li ho fatti nascere e non c'è bisogno di incontrare Di Maio per riaffermare queste cose. Ma in realtà dai vertici dei 5 Stelle si fa sapere che l'espulsione di Giulia Sarti viene data per scontata. Nella materia politica che tanto abbiamo trattato anche in questo telegiornale si parla anche tra poco in 8 e mezzo. Gli ospiti di Gruber, Donald Sassun, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco. E poi essendo martedì anche da Giovanni Floris. Di martedì tra gli ospiti ci sono Sabino Cassese, Carlo Calenda e Carlo Cottarelli. Ci fermiamo. E siamo infine come sempre alle borse. Vediamo come ha chiuso Milano praticamente invariata meno 0,01 per cento e per quanto riguarda lo spread è anch'esso poco mosso a quota 255. E se vediamo la situazione a New York, Wall Street è pochissimo mossa altrettanto. Dow Jones più 0,12, Nasdaq più 0,21 è tutto. Gruber, poi Floris. Ci vediamo domani sera. Buonasera.